Uniti per un ospedale a misura di bambino, questo il bellissimo motto dell'Associazione Triacorda che da anni lavora, stringe alleanze per realizzare un sogno, far nascere il polo pediatrico del Salento. Il nostro liceo sostiene questa iniziativa dal 2017. Continuiamo a sostenerla anche quest'anno. Dal 23 novembre al 23 dicembre è possibile fare una donazione attraverso un bonifico. Il 26 dicembre ci sarà un momento di gioia, di condivisione, perché online alla presenza mia, della professoressa Silvia Quarta Serafino che è l'anima di questa raccolta fondi, degli studenti che si occupano di volontariato e dei rappresentanti d'istituto. Ci sarà un sorteggio per l'attribuzione di premi offerti da aziende del nostro territorio che ringrazio Ottica Rucco, Ottica Alfarano, Centro Estetico Soletè e Gogi Sport, Stabili Boutique Uomo e Donna, Toticchio Sport, Crazy Sport e Gallo Negozio di Abbigliamento. Ringrazio queste aziende per la loro generosità e concludo con un motto che è stato ideato dai nostri studenti per questa importante azione di beneficenza. Dove c'è un bambino c'è il futuro e ogni giorno è Natale.